La scala Alport serve per valutare il grado di pregiudizio e discriminazione esistente all'interno di un gruppo sociale o di una comunità. La concepisce nel 1954 lo psicologo cognitivista americano Gordon Alport, autore del seminale Nature of Prejudice. Alport è un vero pioniere. Per dire, tra i suoi allievi c'è anche Stanley Milgram, quello del famosissimo e raggelante esperimento di Milgram sull'obbedienza all'autorità. La scala Alport è composta di cinque livelli che andiamo adesso a esaminare. Ve li racconto in sintesi perché conoscerli e saperli identificare in questi tempi ruvidi e ostili può tornare utile assai. Mi toccherà usare un sacco di metaforiche virgolette perché la percezione della diversità e dell'inferiorità e la discriminazione che ne consegue sono oltre che odiose, fluttuanti, arbitrarie e soggettive. E infatti vi prego di ricordare che ciascuno di noi è potenzialmente il diverso o l'inferiore, o per dirla con il compianto decrescenzo il meridionale, di qualcun altro. Dunque eccoci al primo livello della scala Alport, il quale riguarda le rappresentazioni negative, antilocution, che un qualsiasi gruppo, in group, da di coloro che sono giudicati diversi, out group. A questo livello stiamo parlando di uso di stereotipi, maldicenza, ridicolizzazione, discredito, discorsi d'odio. Il secondo livello consolida le rappresentazioni negative, trasformandole in pregiudizi. Il disprezzo e lo stigma sociale che già al primo livello colpiscono i diversi si traducono in evitamento, avoidance. Il gruppo tende ad azzerare ogni occasione di contatto materiale, a cominciare dal contatto oculare. I diversi non si guardano, non si toccano e vanno tenuti il più possibile lontani. La conseguenza è che i diversi vengono emarginati e isolati, cosa che oltre a causare profonde ferite psicologiche ovviamente riconferma la loro diversità. Il terzo livello, discrimination, la discriminazione, riguarda la concretezza della quotidianità. I pregiudizi si trasformano in subordinazione costante e in divieti discriminatori. Ai diversi è limitato o negato l'accesso alle opportunità che la comunità offre, dall'istruzione al lavoro, alla sanità pubblica, alle case popolari, ai servizi sociali. La facoltà di espressione dei diversi è ridotta. Se provano a far valere le loro ragioni, vengono ignorati o interrotti, oppure, quanto dicono, viene riformulato. Il quarto livello è quello della violenza fisica, il physical attack. Riguarda un'intolleranza così estrema da esprimersi attraverso il ricorso alla violenza e all'aggressione fisica. Stiamo parlando di agguati, pestaggi, stupri e spedizioni punitive. I beni materiali di proprietà dei diversi possono essere bruciati o vandalizzati. Infine, il quinto livello è quello dell'eliminazione fisica, extermination. Riguarda la cancellazione dei diversi, che può verificarsi attraverso lo sterminio o la rimozione di un'ampia frazione del gruppo o dell'intero gruppo. Tutto ciò vi suona familiare e vi ricorda sia eventi del recente passato, sia fatti della cronaca contemporanea, vero? Per carità, non è automatico che episodi di intolleranza riconducibili al primo livello della scala Alport siano destinati a intensificarsi nel tempo. Sottovalutarli e minimizzarli, però, è una pessima idea. Suggerisce che, tutto sommato, sia possibile alzare il tiro e passare impunemente da un livello all'altro. Mantenere un'attenzione costante e contrastare dichiarazioni e comportamenti ostili e discriminatori è invece un buon modo per evitare che le cose peggiorino, che le diversità non tollerate si moltiplichino e che l'avversione nei confronti dei diversi sia inizialmente considerata tutto sommato inoffensiva e poi naturale e poi legittima e poi doverosa e necessaria. A proposito dei rischi del sottovalutare, vi ricopio, vi rileggo questo testo tratto da un sermone del teologo tedesco Martin Niemeller. Ce ne sono molte versioni e questa è una di quelle. Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiamano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. E poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. La cosa da sapere è che il testo riflette la biografia dello stesso Niemeller, primo ufficiale comandante di sottomarini e decorato. Poi pastore luterano, conservatore convinto e iniziale sostenitore del nuovo ordine hitleriano. Poi oppositore del regime e internato a Dachau. Infine, dopo la guerra, pacifista convinto e firmatario della dichiarazione di colpevolezza di Stoccarda, in cui le chiese protestanti tedesche si dichiararono appunto colpevoli di essersi opposte in modo troppo blando e tardivo al nazismo. Ma accorgersene dopo non cambia le cose, vero? Ancora a proposito della percezione dei pericoli di stereotipizzazione e discorsi d'odio, c'è un ultimo punto interessante che voglio segnalarvi. Oggi alle imprese si richiedono correttezza e integrità assolute. Se ne accorta l'Italia che in un recente spot pubblicitario ha usato il blackface, cioè un attore bianco con la faccia dipinta di nero che impersona Barack Obama. Obiettivo? Il lancio di un nuovo volo diretto tra Roma e Washington. Ne sono conseguiti scandalo e profonda irritazione, sia sui social media che sulla stampa d'opinione, per esempio il New York Times. Motivo? Il blackface, e tutto ciò che lo evoca, negli Stati Uniti è considerato umiliante e profondamente razzista. Alitalia si è scusata e ha cancellato lo spot. Il fatto che l'offesa sia stata palesemente non intenzionale non l'ha fatta comunque percepire come meno grave. In incidenti analoghi sono per altre in corse diverse aziende. Il New York Times ricorda Gucci e Prada, H&M, Nike, ma ci sono anche Zara e Barberi e molti altri. Il punto è questo. All'offerta commerciale si chiede con attenzione, vigore e puntiglio crescenti di non incorrere mai, neanche per errore, in affermazioni o comportamenti discriminatori. Invece, sembra che l'offerta politica si stia via via facendo più forte in molti paesi proprio attraverso messaggi e proposte discriminatorie e facilmente riconducibili ai livelli della scala Alport. In sostanza che un politico pratichi costantemente i discorsi d'odio o arrivi a incoraggiare implicitamente perfino l'aggressione fisica sembra meno grave, fa meno impressione, suscita meno scandalo. Viene considerato solo, solo, come un brutto espediente retorico per catturare consenso, una sgradevole conseguenza della necessità di farsi sentire e di mantenersi visibili sui social media. In altre parole, è come se da consumatori e nei confronti delle aziende si potesse oggi essere molto più attenti alla correttezza che da cittadini e nei confronti della politica. È un paradosso sul quale varrebbe la pena di riflettere, ma sul serio.